Manuele Blasi, domenica è arrivata una sconfitta con il Cerveteri che possiamo dire è pesante sia per la classifica che per il morale, però sei fiducioso sulla tua squadra? Sicuramente sono fiducioso e poi comunque sì, è una sconfitta che pesa soprattutto in questo momento di campionato dove bisogna cercare di sbagliare il meno possibile perché adesso ogni punto perso diventa pesante come dicevi tu a livello soprattutto mentale. Tanta sfortuna però che cosa è mancata alla CPC? Tanta sfortuna sì, però evidentemente se si è preso tre gol qualcosa abbiamo sbagliato, io in primis perché comunque sono io che allenatore, sono io che provo la squadra prima della partita quindi se abbiamo sbagliato qualcosa tatticamente il primo responsabile sono io, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa, siamo stati superficiali in alcune situazioni e abbiamo pagato. Cercherete però di ripartire subito dal Montefiascone che all'andata vi ha messo molto in difficoltà, che partita ti aspetti lì? Una partita difficile perché il Montefiascone è una delle squadre migliori di questo campione, secondo me è quella che esprime uno dei migliori calci e sì, si riparte secondo me dalla buona prestazione che abbiamo fatto domenica cercando di sbagliare il meno possibile. Ecco, l'obiettivo adesso è sempre cercare di superare l'ottavio oppure a questo punto meglio concentrarsi sul secondo posto? Ma io direi di non pensare né al secondo posto né al primo posto ma di pensare di far più punti possibili da qui alla fine del campionato, poi tireremo le somme alla fine, dove siamo siamo. Grazie a tutti.